Rotatorie, sottopassaggi, varianti alle strade di scorrimento, piste ciclabili e pedonali. Sono queste le tipologie di opere pubbliche che saranno realizzate con i finanziamenti regionali, 6 milioni di euro, assegnati a comuni e province per migliorare la sicurezza stradale. Si tratta di 52 progetti selezionati dalla Regione tra i 73 inviati dagli enti locali. I risultati della selezione sono stati resi noti in Regione durante un workshop sulla sicurezza stradale. Il criterio che guida tutte le valutazioni è quello di abbattere al massimo la pericolosità sulle strade. Quindi c'è una commissione che è composta dai nostri tecnici regionali e dai tecnici che sono selezionati dalle associazioni rappresentative di comuni e province hanno fatto una valutazione di merito secondo i criteri che il bando dava e hanno scelto i migliori progetti. La Regione finanzierà il 40% dell'opera, il resto gli enti locali. La parte più cospicua dei fondi è andata alle province della Toscana del Sud. Siena riceverà circa 1.800.000 euro, Grossetio e Arezzo complessivamente 1 milione. Abbiamo visto dati alla mano che gli interventi in sicurezza stradale sono economicamente convenienti perché il risparmio dei costi sociali è ampiamente superiore agli investimenti che vengono fatti. In base ai risultati ottenuti dagli altri interventi vediamo un abbattimento molto elevato nell'ordine anche del 70-80% e soprattutto la gravità si riduce. Non solo quindi il numero degli incidenti ma anche gli effetti sulle persone.